Con la fine di agosto si rimette in moto la macchina amministrativa delle istituzioni scolastiche. Lunedì 12 il suono della prima campanella che spalancherà le porte delle aule per studenti e insegnanti. Intanto l'ufficio scolastico regionale di via Garibaldi ha ripartito le consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di Campobasso e Isernia per il personale docente. Il decreto ministeriale assegna al Molise un contingente di 204 posti. La ripartizione è stata fatta tenendo conto dell'offerta formativa a seguito dell'assegnazione del contingente dell'organico di diritto e delle situazioni di criticità. Per la scuola primaria l'adeguamento dell'organico vede in provincia di Campobasso tre docenze, due per quella di Isernia. Nelle scuole medie sono stati assegnati 56 docenti nella provincia capoluogo a fronte di 33 in provincia di Isernia. Per gli istituti superiori l'adeguamento ha previsto 81 posti a Campobasso e 29 in alto Molise. Il provveditorato guidato dal dirigente Anna Paola Sabatini ha inoltre autorizzato alcune variazioni delle classi rispetto a quelle rilasciate con l'organico di diritto. Alla scuola media Brigida di Termoli l'istituzione di un'altra classe prima. Sempre a Termoli, all'istituto Majorana e al Boccardi sono state aggiunte nuove classi prime. All'istituto Dovidio di Larino la prosecuzione dell'indirizzo professionale di Campomarino con la terza classe. Sempre nella località frentana l'istituzione di una nuova prima media. All'istituto Omni Comprensivo di Santa Croce di Magliano lo sdoppiamento della pluriclasse della vicina San Giuliano di Puglia. All'Omni Comprensivo di Casa Calenda l'istituzione della pluriclasse di Ripa Bottoni. A Campobasso l'istituto Superiore Pilla avrà una seconda classe prima di indirizzo professionale. Accorpamento delle classi quarte invece all'Omni Comprensivo di Montenero di Bisaccia. All'istituto Comprensivo di Carovilli lo sdoppiamento della pluriclasse di Miranda. Infine ad Agnone la prosecuzione delle classi prime ad indirizzo meccanico.